Noi paghiamo l'epilogo di una lunghissima fase nella quale si è poco investito nel partito unitario e di fatto hanno preso corpo un partito fatto più per gruppi e correnti che non con uno spirito unico. E quindi di fronte a un grande tema che è stata la sconfitta al referendum e anche alla necessità di dare risposte forti al Paese, quella struttura troppo frammentata a mio giudizio rischia di cedere. Io ovviamente rimarrò nel PD con le mie idee perché credo che sia ancora il PD il luogo della battaglia politica per affermare le idee della sinistra italiana. Siamo in una fase molto complicata e dobbiamo riscoprire però l'orgoglio e la voglia di partecipare affinché, ripeto, si faccia un congresso che a mio giudizio deve avere tra i tanti due punti all'ordine del giorno. Come cambiare il PD perché è evidente che qualcosa non è andato e come ricostruire l'Italia.